Buongiorno a tutti, siamo qua per presentare un disegno di legge a Fiuma Lega che ahimè la cronaca ci dice essere urgente, ci abbiamo lavorato per settimane e siamo arrivati nelle ultime ore alla stusura definitiva, la cronaca ovviamente faccio riferimento a quell'episodio pazzesco della morte di quella papà e di quella mamma alla guida della macchina che erano nel posto sbagliato al momento sbagliato e hanno incrociato lo stronzo sbagliato, un tossico, ubriaco, senza patente, senza assicurazione, mi domando cosa ci facesse a spasso, nel rispetto dei rispettivi poteri mi domando cosa devi fare in Italia per commettere un reato legato alla droga per stare in galera, questo era indiziato, così la ricostruzione che ho chiesto ai miei uffici stamattina nello scorso autunno, coinvolto nel sequestro di 225 chili di droga, ripeto 225 chili di droga e sto stronzo era a spasso, non è possibile, non è possibile, nostro disegno di legge prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia sostanze stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della cosiddetta lieve entità, perché qualunque operatore delle forze dell'ordine con cui mi confronto e con cui vi potete confrontare anche voi è frustrato perché becca per la decima volta lo stesso spacciatore con la cosiddetta modica quantità a spasso nello stesso parco con gli stessi bambini, non è possibile, non esiste modica quantità, ti becco a spacciare, vai in carcere con le misure cautelari, questo per duetti, per 225 chili non avevamo pensato a una proposta di legge che riguarda lo spaccio di 225 chili di droga e ripeto, secondo me c'è qualcuno che dovrebbe farsi un serio esame di coscienza, perché ci sono due bimbi di 8 e 10 anni che hanno perso la mamma e il papà perché c'era un infame che doveva essere in galera in Italia o al suo paese che guidava ubriaco, tossico, senza patente e senza assicurazione, non è possibile e a me prudono le mani, poi come ministro dell'interno devo far rispettare la legge, devo modificare delle leggi che non funzionano, questa è la proposta che la Lega porterà avanti alla Camera e al Senato con un articolato che prevede anche la confisca obbligatorio del veicolo per chi viene beccato a guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che riguarda la revoca definitiva della patente in relazione a fatti gravi e non la sospensione della patente, vabbè che questo manco ce l'aveva la patente. Adesso mi premurerò di sentire le autorità marocchine per fare in modo che non sia a costo degli italiani il mantenimento in galera di questo infame, però i dati di cui siamo in possesso ci danno un drastico aumento della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, la cosa più preoccupante da ministro e da papà è l'abbassamento dell'età media di primo consumo. Quindi mentre abbiamo una legislazione fuori dal mondo e fuori dal tempo il disegno di legge mi sembra significativo. Questa è l'intestazione. Modifica il codice di procedura penale al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti relativamente alla produzione, al traffico, alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Ecco, vogliamo che il sacrificio di polizia, carabinieri e forze dell'ordine sia riconosciuto con misure cautelari in carcere per chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Altrimenti ci si deve attrezzare, hanno fatto benissimo gli inquirenti a Firenze, il procuratore di Firenze con un'indagine con infiltrazioni che è durata quattro mesi perché l'unica possibilità di mettere in galera gli spacciatori è il riconoscimento dell'associazione a delinquere. Però per riconoscere l'associazione a delinquere servono decine di uomini, decine di appostamenti e un lavoro che dura mesi. Ora non è possibile che lo stesso spacciatore venga preso per la decima volta nello stesso posto perché è una frustrazione al lavoro degli inquirenti. Le pene che noi prevediamo passano da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni per quanto riguarda lo spaccio e la multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. Confisca obbligatoria del mezzo, sequestro del veicolo e revoca definitiva della patente. Questo è uno dei tanti episodi. Poi la nazionalità non mi interessa, abbiamo ubriachi e tossici al volante di Milano, di Roma, di Torino o di Ravenna e li puniamo come si devono punire dei delinquenti del genere. Se arrivano dall'altra parte del mondo ovviamente il fastidio è doppio perché non possono esserci. Questo aveva l'obbligo di firma. Ditemi voi che cos'ha un soggetto del genere, anzi per essere precisi, con questo personaggio si aveva l'obbligo di firma. Io mi sono fatto ricostruire la vicenda mese per mese ed è surreale, però ci tengo che gli italiani sappiano. Questo 34enne era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso nel dicembre 2018, dopo che il 13 aprile 2018 il medesimo, insieme ad altri due magrebini, era stato beccato in un'operazione antidroga che ha portato a un maxi sequestro di 225 kg di hashish dentro sette trolley a Montegranaro, nelle Marche. Il 5 ottobre 2018 gli venivano concessi gli arresti domiciliari. Adesso io chiederò al collega Bonafede la documentazione che permette che un soggetto legato a un traffico di 225 kg di droga nell'arco di 5 mesi abbia la concessione dei domiciliari e il 18 dicembre 2018 è stato sottoposto alla pesantissima misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo guidava quando non doveva guidare e ammazzato due persone che non centravano niente. Ovviamente questa proposta di legge non risolve i problemi del mondo ma assicura che gli spacciatori fermati nei giardinetti, nelle stazioni e davanti alle scuole dove vanno i nostri figli stiano in galera in attesa di giudizio invece che di guidare un Audi A6 in attesa di giudizio. Questo è l'unico tema vista la delicatezza pregando per le due vittime e cercando di essere più vicini possibili ai due bimbi che sono sopravvissuti a cui possiamo porre rimedio. Spero che il Parlamento abbia coscienza del fatto che è urgente combattere spaccio e consumo sotto ogni forma, il che non riporterà in vita quella mamma e quel papà, però magari eviterà altri drammi simili nei mesi a venire. Se ci sono domande rispondo volentieri su questo, se avete domande sugli equilibri politici, sui mutamenti climatici o su altre amenità rispondo da domani in avanti. Prego, prego. E' tutto abbastanza chiaro, l'unica cosa che non è chiara è, se non è vero, se tutte queste persone vengono arrestate, seguirebbe almeno il gioco di questi carceri, perché abbiamo 48 mila posti che non vado. Il collega Bonafede sta lavorando bene in manovra economica, ci sono i soldi per nuove carcere, nuove assunzioni di uomini e donne della Polizia Penitenziale. Non voglio rubare il mestiere ad altri, cosa già di cui vengo accusato, quindi chiedete ai suoi uffici per quanti posti e in quali tempi. Però ci sono gli stanziamenti in manovra sia per gli stabili che per gli uomini che dovrebbero andarci a lavorare. La cosa che è assolutamente frustrante incontrando io quotidianamente poliziotti e carabinieri è che loro mettono a rischio la loro vita per prendere per la dodicesima volta lo stesso spacciatore nello stesso posto. Escono perché oggi la normativa permette che escano perché è lasciato alla soggettività del giudice lo stabilire quanto sia lieve la lieve entità di stupefacenti di cui sono trovati in possesso. Chiaro che non è questa fattispecie, su questo vorrò andare fino in fondo e voglio capire perché questo soggetto dopo pochi mesi era già spasso e guidava un'autovettura perché non stiamo parlando di lieve entità con 225 chili di droga evidentemente. Però purtroppo io ho visto scelte che hanno riportato in libertà persone trovate anche in possesso di duetti di droga e qualcuno mi dimostri che duetti di droga sono a consumo personale di lieve entità. Ne fa un utilizzo evidentemente massivo e massiccio sto soggetto per consumare autonomamente duetti di droga. Non c'è il rischio di confondere un consumatore con uno spacciatore se si azea il principio della modica quantità? No, è ben chiaro chi spaccia e chi consuma. Non entro nel merito delle scelte personali e quindi non sono per lo stato censore dei costumi, ognuno sceglie di farsi del male come ritiene. È chiaro ed evidente a me, ai poliziotti, ai giudici qual è la quantità che porta dal consumo allo spaccio. Sulla modica quantità, spesso nelle scuole, i liceali, chi si scambia insomma marijuana o hashish, poi la consuma insieme, insomma c'è una certa differenza. Volevo capire se questo DDL prevede anche un percorso di formazione nelle scuole per i più giovani che si trovano di fronte a una novità grande in qualche modo. Non è un intento punitivo nei confronti di chi consuma perché lì ci sta mamma e papà, ci sta la scuola, ci sta l'educazione, ci sta la comunità, ci sta la cerchia delle amicizie e quindi non mi interessa entrare in camera da letto in aula magna del liceo. Ho finanziato l'operazione Scuole Sicure che ha portato al sequestro di chili e chili di droga spacciata fuori dalle scuole con decine di arresti di spacciatori che non erano minorenni e quindi erano lì a fare affari evidentemente. A me interessa togliere dalle strade coloro che campano spacciando. Poi quello che fa ciascuno nella sua vita privata non sta a mai giudicarlo, ognuno ha la sua coscienza e quindi non mi interessa punire il consumo. Fumo sul pacchetto di sigarette che ho appena buttato via, c'è scritto che fumare nuoce gravemente alla salute, lo faccio da idiota e spero di smettere il prima possibile, però i venditori di morte io li voglio vedere scomparire dalla faccia della terra. Ministro, Sania Bonini, la News24, l'ha presentato come un disegno di legge urgente, questo rimanda però a un'altra categoria che è quello del decreto legge, se si riavvisano le caratteristiche di urgenza e necessità viene da chiedersi perché non si passa attraverso la categoria del decreto urgente e rimanda anche un'altra... Stavo arrivando a quello, evidentemente assumo un significato politico che forse rischiate di non trovare una corrisponsione di interessi nell'altra parte della maggioranza? Il Parlamento è sovrano, penso che nessuno in Parlamento, anche se ha altre attitudini sul consumo personale, io mi occupo di spaccio, da Ministro dell'Interno devo stroncare lo spaccio e io ricordo che il traffico di esseri umani ormai è arrivato ad alimentare un business anche superiore per quanto riguarda il continente africano allo spaccio di droga, nel senso che il traffico di esseri umani ha superato il traffico di droga e il traffico di armi per quanto riguarda la redditività e ogni barcone che blocco per quello che mi riguarda è un successo anche nell'antidroga e nel blocco della vendita abusiva di armi. A me interessa bloccare chi spaccia, chi consuma sceglierà cosa fare della sua vita, ci mancherebbe altro, l'aumento delle pene, la riduzione della quantità che permette alle forze dell'ordine di vedere coronato le loro operazioni, spero che raccolga il 100% dei consensi, il sequestro dell'autoveicolo e il ritiro definitivo della patente non si parla del fatto che uno aveva uno 0, 1 di alcol in più perché si era fatto un amaro in più rispetto al previsto, questo aveva se non ricordo male l'1,87 però è stato trovato positivo anche all'uso di sostanze di ogni genere, quindi voglio vedere quel parlamentare che mi dice no non è giusto revucare la patente, no non è giusto confiscare il veicolo, non è giusto le misure cautelare nei confronti di un soggetto come questo. Marco Difonso, Sky di G24, mi sembra di capire che questa proposta non è stata condivisa con i 5 Stelle, volevo sapere se è stata almeno comunicata e più in generale se non può essere un ulteriore elemento di tensione nell'alleanza visto che ci sono già molte questioni aperte qua si tratta di salvare vite, poi ripeto so che da parte di 5 Stelle ci sono proposte sulla legalizzazione dell'utilizzo di alcune droghe che mi vedono contrario però si parla di un altro tema, qua si tratta di togliere dalle strade dei delinquenti, delle bombe umane perché un soggetto del genere, ripeto poi chiederò al collega Bonafede anche il dettaglio giudiziario delle scelte che probabilmente applicando la legge vigente perché non penso che ci siano dei giudici che interpretino la legge a loro piacimento però se un soggetto del genere coinvolto in un traffico di droga del genere era libero dopo pochi mesi evidentemente è la legge che non funziona. Quindi sono alcune settimane che ne parliamo con gli amici dei 5 Stelle, ci siamo già confrontati avendo detto i nostri no sulle loro proposte però siamo una Repubblica parlamentare e mi piacerebbe che se ne occupasse il Parlamento. Ministro scusi a proposito di un provvedimento che è in agenda in questi giorni, la legittima difesa, in quel caso a che punto è l'accordo con i 5 Stelle visto che ci sarà un altro passaggio? L'accordo è chiuso e se non sbaglio sarò in aula domani. Però deve passare anche in aula al Senato e lì i numeri ci sono. Per un motivo formale per una copertura che risaliva al 2018 invece che al 2019. Quindi ripeto che entro marzo sarà legge. Ecco questo, entro marzo questi sono i suoi tempi. E invece se posso, sempre rispetto ai tempi, i tempi per quanto riguarda l'accordo su un altro tema, quello dell'alta velocità quali sono secondo me? Ne parliamo da domani in avanti. Ok. Ministro, questo è sicuramente un caso tragico ma in realtà è che le cacce di italiani sono strappiene di spacciatori, questo si sa. La vera nomorica italiana è che le cacce italiane hanno pochissimi detenuti colletti bianchi, una frazione di quelli che ci sono in Germania e in quasi tutti gli altri paesi europei. Voi della Lega, sempre parlando di differenze di sensibilità con i 5 Stelle, anche per voi è una priorità aumentare la quota di cacerati colletti bianchi per l'evasione fiscale e frutta fiscale o non vi importa questo tema? Non distingo le quote, non sono per le quote bianche, rosa, gialle, verdi e non sono per le quote bianche, nere, verdi o fucsia. A me interessa che i delinquenti finiscono in galera, col colletto o senza il colletto. Io sono anche e ci stiamo lavorando a favore sul modello austriaco e di altri paesi europei del lavoro obbligatorio in carcere per dare un futuro a chi è in carcere dovrebbe essere riabilitato e imparare una professione perché il dramma spesso e volentieri la recidiva. Quindi se coloro che fossero in carcere lavorassero sarebbe interesse loro, interesse della comunità. Però abbiamo approvato lo spazzacorrotti che per quanto mi riguarda le pene per chi compie reati contro la pubblica amministrazione sia una delle normative più severe sulla faccia della terra. Quindi più che fustigarli non possiamo fare. Salve, le posso chiedere l'iter dell'autonomia che appunto sta, visto che non infligge su ci stiamo lavorando, ma per emendare o no il testo dalle camere? Tutto è migliorabile. Virginia Luzzito, il Tg1. Volevo capire meglio il timing di questo disegno di legge, cioè quando verrà presentato alle camere. Presentato o presentato oggi, poi ci sono i capigruppo, Senato e Camera, Riccardo e Max, se volete decidere voi. Si prevede eventualmente, anche per svuotare le carceri, di far scontare la pena ai detenuti stranieri nei loro paesi di provenienza? Anche su questo devo dire che il Ministero dell'Interno sta lavorando da mesi con il Ministero della Giustizia. Ne ho parlato col collega Bonafede all'ultimo Consiglio dei Ministri, in particolare per alcune migliaia di detenuti stranieri, comunitari, a cui manca un anno a fine pena e il collega Bonafede mi dice che è a buon punto per un accordo che preveda che scontino in carcere la fine della loro pena. Però siccome non voglio togliere il lavoro a colui che lo sta facendo, se sullo stato di avanzamento lavori Italia e Romania volete chiedere al collega Bonafede sarà sicuramente più preciso di me. Dato che lei ha detto che anche 5 Stelle hanno presentato un provvedimento su questo tema, un provvedimento congiunto non era possibile in Lega 5 Stelle? No, ma loro si occupano di consumo, io mi occupo di spaccio, sono due fattispecie assolutamente diverse, quindi io sono fuori dalla scuola, quindi ognuno fa il suo. L'ultima cosa sulla TAV, dato che oggi sia lei che Toninelli avete detto che comunque si troverà un accordo, però partite da posizioni diverse. Chi diciamo dei due cederà di più? Che prevalga il buonsenso. Poi sui lavori non so se si parte da Camera o Senato, Max? Abbiamo parlato con il Presidente della Commissione di Giustizia del Senato, Andrea Stellari, che appena sarà assegnato il provvedimento, chiaramente l'abbiamo presentato oggi, ci sono i tempi del Senato di valutazione degli uffici, dopodiché viene assegnato e il Presidente è pronto a calendarizzarlo alla prima occasione. Sì, la disponibilità dal Presidente c'è. Ministro, lei diceva per quanto riguarda invece la legittima difesa, ha detto l'accordo con i Cinque Stelle chiuso, significa che si sente garantito da Di Maio sulla tenuta del gruppo del Movimento 5 Stelle sia alla Camera che al Senato, considerato che già anche sul voto se le pregiudizia di costituzionalità circa 15 deputati sono già usciti e, come diceva il collega, anche al Senato i numeri sono in bilico. Sono sicuro che entro marzo la nuova legittima difesa sarà legge dello Stato, quindi non ho dubbi su questo. Le volevo chiedere che valutazione ha fatto sulle parole che ha letto oggi di Orban in merito al Partito Popolare e le critiche che le rivolge sulla sua linea politica. Poi volevo sapere se lei condivideva le parole di Grillo in merito alla manifestazione di Milano sul razzismo. Io adoro ogni genere di manifestazione pacifica e stimo enormemente il Premier ungherese Orban e il 27 maggio i numeri diranno che aveva ragione. Ho visto Napoli-Juve e ho fatto bene. Ministro, visto che stiamo parlando ormai di tutto, lei ha commentato le primarie del PD di ieri. Possiamo chiederle che messaggio si sente di mandare a Zingaretti, un augurio o quello che è? Certo, speriamo di avere un'opposizione costruttiva e propositiva. Poi? Su Zingaretti posso chiedere una cosa. Visto che Zingaretti ha come primo atto della sua campagna elettorale è andato a Torino a sostenere Chiamparino in chiave CITAB. Ecco, c'è una campagna elettorale e i vostri avversari la faranno sostenendo l'opera. Voi come ci arrivate a quell'appuntamento su questo tema? Noi a differenza di chi è all'opposizione siamo al governo e quindi dobbiamo fare, non visitare, sono convinto che faremo a breve. Faremo, faremo, faremo tante cose. No, un segnale di ringraziamento a un Parlamento che dopo anni di chiacchiere risponde a quella che è una richiesta di giustizia che arriva dal 99% del popolo italiano. e quindi venerdì poi faremo una conferenza stampa per accompagnare un'altra iniziativa sempre a tutela delle vittime. Visto che nella giornata dell'8 marzo ci sono sempre grandi proclami, io da Ministro e da Forza di Governo ai proclami preferisco i fatti e quindi però ne parleremo venerdì. Ministro, mi scusi, lei dice faremo sulla TAV, però dai 5 Stelle anche oggi continuano ad arrivare segnali che parlano di una contrarietà a quest'opera, dicono che è inutile, che costa troppo. Qual è il punto d'incontro se esiste? Ci stiamo lavorando. Lo vedete voi questo punto d'incontro? Io lo vedo sempre e comunque il punto d'incontro. Mi alzo la mattina guardando punti d'incontro. Rischia di far cadere il Governo la questione della TAV? Assolutamente no. Con le elezioni regionali, adesso ieri con le primarie, secondo lei da leader della Lega e del centrodestra, lei intravede un ritorno del bipolarismo in Italia? No, adesso è stata una bella giornata di partecipazione, non ho gli ultimi dati, però mi sembra la partecipazione più bassa di tutte le primarie che il Partito Democratico ha svolto negli anni. E poi vedevo questo festeggiamento a reti pressoché unificate dell'affluenza boom, ma a me va benissimo un'opposizione così, che festeggia se arriva seconda alle regionali. Firmerei per avere un'opposizione che festeggerà per altri vent'anni il fatto che arrivi seconda alle regionali, alle politiche, alle europee e che vadano a votare meno gente rispetto agli anni passati. Quindi va bene. Poi, ripeto, auguro buon lavoro a chiunque debba ripresentare agli italiani un Partito Democratico che ha perso tutte le ultime elezioni in serie fatte perché evidentemente hanno sbagliato qualcosina al Governo. Il Berlusconi ha detto che dopo le europee ci sarà il rilancio del centrodestra come coalizione e maggioranza naturale. C'è questa strada di un centrodestra che può tornare veramente a essere Governo? Ne parliamo fra cinque anni. Il Ministro, il senatore Bernai venerdì ha detto che se ci sono problemi con la crescita e si deve fare una manovra correttiva, sarà una manovra correttiva espansiva per aumentare il deficit e non per diminuirla. Anche lei la vede così come l'unica possibilità di manovra sarà una con più deficit invece che con meno? Ma sicuramente non ci sarà nessuna manovra che porterà nuove tasse. Questa è l'unica cosa che mi sento di poter dire. Poi aspettiamo di vedere i dati reali, però nuove tasse noi non ne mettiamo. Questo è poco ma è sicuro patrimoniali, conti correnti, case. Questo è fuori discussione, IVA. Ma di ridurre il deficit in un altro modo è possibilista su questo? Sono possibilista per natura. Io per la lotta agli spacciatori sono disposto a fare qualsiasi cosa. Pur di mettere in carcere gli spacciatori che oggi sono a spasso sono disposto a fare qualsiasi cosa. No, l'obiettivo è che ci sia questa maggioranza in cui si aggiungono altre persone. Ripeto, al di là delle scelte personali o delle scelte di vita di ciascuno su cui non entro nel merito, qua ci si occupa non di consumatori ma di spacciatori. E quindi non penso che ci sia un solo parlamentare disposto a difendere uno spacciatore in Parlamento. Mi auguro che sia così. Grazie e buon lavoro, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.